Grazie a tutti Solo due parole di introduzione, poi saranno i tecnici e i relatori a spiegare meglio il senso. La città metropolitana ha deciso che il suo piano strategico sarà dedicato ad alcuni assi fondamentali. Uno degli assi fondamentali su cui sarà articolato questo importante strumento di programmazione è quello dell'intervento per la qualità della vita tramite la salvaguardia dell'ambiente. Ovviamente porto i saluti del sindaco metropolitano e dell'intero consiglio metropolitano. Energy Med, per noi è strategico, parlando di piano strategico, essere qui perché è la dimostrazione della volontà dell'amministrazione metropolitana, quindi di tutta la parte politica che oggi sta amministrando un territorio così vasto e così ricco quale quello dell'ex provincia di Napoli, appunto di dimostrare che su determinate tematiche non solo siamo attenti ma vorremmo essere all'avanguardia. Consiglio Cascone, oggi a Energy Med della città metropolitana presenta il piano strategico. Sì, oggi presentiamo il piano strategico, presentiamo le attività che la città metropolitana sta mettendo in campo per le tematiche ambientali e facciamo capire che stiamo dando un'impronta importante allo sviluppo dei nostri territori per i prossimi decenni. In che modo state coinvolgendo i sindaci e il territorio? Con due iniziative diverse ma che confluiscono sulla stessa finalità ovviamente. La prima è stata già fatta a dicembre, abbiamo stanziato 32 milioni di euro di trasferimenti già erogati ai comuni che in questi mesi stanno siglando le convenzioni con gli uffici e con il settore ambientale. investimenti importanti perché riguardano la ripiantumazione, quindi nuove piante, nuovi alberi, ossigeno e riguardano il miglioramento dei servizi di raccolta differenziata sia per quanto riguarda le attrezzature che i centri di raccolta. L'altro lato della medaglia è rappresentato dal piano strategico di per sé e in questo abbiamo coinvolto tutti i comuni, quindi tutte le amministrazioni comunali alle quali abbiamo chiesto di presentare dei progetti che riguardino anche l'ambiente, quindi anche i parchi urbani anche riqualificazione ambientale di alcune parti del territorio metropolitano proprio per coinvolgere le amministrazioni sullo sviluppo della nostra ex provincia, oggi città metropolitana. E' importante aver coinvolto loro perché la linea direttrice dei nostri interventi è proprio quella di sederci tutti assieme sullo stesso tavolo e concordare assieme lo sviluppo e il futuro delle nostre popolazioni. Noi ci siamo insediati tre anni fa come amministrazione e avevamo un grande progetto che era quello di realizzare il primo piano strategico della città metropolitana di Napoli. Documenti strategici di questo tipo non esistono alle nostre latitudini. Questo probabilmente per una incapacità nel riuscire a creare relazioni e network all'interno delle nostre aree amministrate. Ora una veloce digressione, consentitemi perché è passata in sordina. Tre anni fa quando ci insediamo trovammo nel cassetto quello che oggi di cui tutti parlano nei giornali che sono questi famosi 400 milioni di euro. 400 milioni di euro erano i progetti non realizzati negli anni da parte della provincia. Quando non veniva realizzato un progetto le risorse che erano collegate a quel progetto andavano ad alimentare quello che veniva definito avanzo di amministrazione. Ora in applicazione della vecchia normativa sul pareggio di bilancio quei soldi non si potevano toccare. Li avevi ma non li potevi spendere. L'intuizione del sindaco dei magistri si accompagnato dal consiglio metropolitano è stata andare a Roma e pretendere che quei 400 milioni di euro non venissero cancellati. Tre anni fa eravamo nella prima applicazione della legge 56. Niascevano le città metropolitane e c'erano delle città metropolitane, mi riferisco a Milano, quindi non solo quelle che stanno a sud, su cui gravavano pesanti situazioni economico-finanziarie. Il governo aveva l'idea di cancellare quei 400 milioni e ripartirlo per tutte le città metropolitane. Il sindaco dei magistris, insieme al consiglio metropolitano, ha imposto il principio che quei soldi, anche se non erano stati spesi nel nostro territorio, appartenevano al nostro territorio e quindi qua dovevano rimanere. Invito a seguirci sulla home page della città metropolitana dove è stata attivata un'area dedicata al piano strategico che speriamo di arricchire nei prossimi mesi con tanti progetti e di riversare i 400 milioni nei prossimi mesi in altrettanti cantieri che abbraccino 92 comuni. Grazie. Grazie a tutti. Direttore, oggi la città metropolitana ha ancora una volta EnergyMed e questa volta presentiamo il piano strategico che nella sua fase più operativa. Assolutamente sì. Noi abbiamo come consiglio metropolitano, come amministrazione, abbiamo lanciato il piano strategico novembre 2018. Il consiglio è andato a definire su impulso del sindaco metropolitano quelle che sono le emergenze, gli asset di sviluppo dei nostri territori e un capitolo importante è stato dedicato all'ambiente. EnergyMed è un partner importante della città metropolitana. Adesso siamo entrati nel 2019 nella fase di costruzione concreta delle misure che andranno a concorrere alla definizione di un'unica grande visione di sviluppo dei 92 comuni che afferiscono l'area metropolitana. Immaginiamo di fare un lavoro importante, c'è la collaborazione piena di tutti i comuni che stanno venendo e partecipando ai lavori per la costruzione del primo piano strategico, immaginiamo di lasciare alle nostre comunità un documento importante e innovativo.